I fedeli hanno riabbracciato la loro patrona Santa Lucia. Un pubblico calorosissimo dopo due anni di lunga pandemia, i fedeli hanno riabbracciato la loro patrona Santa Lucia, vergine e martire cristiana. Non appena il simulacro ha avvarcato la soglia del sagrato della cattedrale, l'emozione ha preso il sopravvento, la folla entusiasta ha tributato uno squasciante applauso liberatorio. Diverse migliaia di devote si sono ritrovati in piazza dopo due anni di stop a causa delle misure di lockdown adottate per contrastare il coronavirus. Presenti gli inconfondibili berretti verdi che sorreggono il pesante simulacro. Una immensa folla di fedeli che mancava dal dicembre 2019 che ha trovato riscontro nella partecipazione massiccia che ha animato la processione dalla cattedrale alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro dove il simulacro è giunto a sera in un tripudio di canti del coro di Mariccia Cirinà e di applausi da parte di coloro che attendevano già diverse ore. Santa Lucia è tornata nella sua casa, dice un'anziana burgariota con le lacrime agli occhi, ad accogliere il simulacro fra Daniele Cugnata e frati della parrocchia che per otto giorni avranno il privilegio di custodire sull'altare maggiore della chiesa il simulacro della patrona. Le celebrazioni in occasione del 13 dicembre sono iniziate la mattina in cattedrale con il pontificale ufficiato dall'arcivescovo di Agrigento con il signor Alessandro Damiano che ha ricordato quanto sia forte il legame tra le chiese di Agrigento e di Siracusa e quanto viva la devozione a Santa Lucia già oltre un miliardo di anni fa dai tempi del Vescovo Marciano. Al termine del rito liturgico concelebrato dall'arcivescovo di Reseo Monsignor Francesco Lomanto con la partecipazione degli arcivescovi emeriti di Siracusa Giuseppe Costanza e Salvatore Pappalardo il presidente della deputazione della cappella di Santa Lucia Pucci Piccione ha consegnato a Benedetto Chiormino un riconoscimento per i 35 anni svolti da maestro di cappella. Proprio ieri Chiormino ha lasciato l'incarico passando le consegne al giovane Salvatore Zanchì. Al balcone dell'arci di Ocesi il preso dell'Omanto ha rivolto un pensiero ai numerosi fedeli presenti in Piazza Duomo nel corso dell'ottavario di Santa Lucia nella Basilica in Borgata si celebrano ogni giorno messe. Oggi alle 17.30 ci sarà il pellegrinaggio della parrocchia siracusana di Sant'Antonio di Padova seguito nella stessa sanata da quella della Fraternità dell'Ordine dei Frati Minori Siracusani. Domani, sempre nel pomeriggio, il pellegrinaggio diocesano della Caritas al termine della quale avverrà la consegnina del premio Lucia Icona di Carità. Venerdì, invece, sempre alla Basilica in programma la celebrazione eucaristica preseduta da Fra Antonio Catalfamo, ministro provinciale dei Frati Minori. I fedeli siracusani adesso si recheranno tutti i giorni in pellegrinaggio per rafforzare la fede e l'amore verso la loro patrona e l'intercessione a Dio. Grazie. Grazie.